esercizio lancio allora aspetta qui ti devo fare devi scrociare a modi ad avere il braccio ad x con questo devo in questa fase lo puoi tenere lì ok poi passi da sotto la scena 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hai capito? 1, 2, 3, 4 ora un altro esercizio guarda 1, 1 potete passare da sotto potete controllare passare da sopra poi lui mette la mano io ruoto e gioco e attacco col pugno alla gola lui fa passo indietro vai vai e invertiamo l'esercizio 1, 2, 3 io passo passo indietro 1 però è importante colpire perché questo è un colpo con direzione al cuore quindi è importante simulare qua è importante anche sviluppare l'attitudine al controllo questo ok poi un altro esercizio anche molto carino del lanzore è questo cioè che è proprio quello che abbiamo appena fatto vedete è fatto vuoto però è questo e poi unio di nuovo tutto qua sempre questo allungiamo ok quindi promuove vedete qua amico amico e anche a seconda mano 1, 2, 3, 4 ok